Giornalista, scrittrice, autrice televisiva, moglie, mamma di Francesco, Luca, Chiara e anche nonna. Cristiana per amore e per ragione. Cresciuta in mezzo ai libri, il suo papà Lorenzo le raccontava l'Iliade e l'Odissea. Il suo primo amore, la radio, negli anni 90 è stata tra le voci dello storico programma RAI Chiamate Roma 3131. Ha pubblicato due romanzi, un saggio con il Cardinal Cotier e una biografia del giudice Falcone. Ama Tolkien, la Juventus e Bruce Springsteen. Sol è il titolo del programma che dal 2014 conduce su TV 2000. Oltre 500 i ritratti di persone e personaggi che ha incontrato fino in fondo all'anima, copertina della nostra ospite. Sor Maria Manuela Cavrini. Dietro questa grata una donna che l'ha scelta senza costrizioni e una donna, almeno a parlarle, felice. E' ancora un po' emozionata, come le dicevo, dall'avere visto il suo ultimo film, Brado, che mi ha molto toccato e commosso. Non sei mai arrabbiata per quello che non riesci a fare? No, perché è incontrale. Dentro l'orizzonte di Dio c'è anche la comicità. Dio ride? Ma sì, ma non sono convinto. Potrei dirti facile, standosene a scrivere libri in una campagna. Quelli che vivono a corcolle, che si ritrovano le folle, i disperati come loro, che arrivano, possono pensare diversamente. Pure lei ha speranza per il mondo, nonostante i pericoli di una guerra gigantesca, nonostante l'atrocità di cui siamo testimoni e di cui voi siete vittime. Certo, senza dubbio. E una di queste piccole cose è sicuramente il dialetto. Lei ha detto, è la membrana sottilissima tra sacro e profano, tra superstizione e religiosità. Eh, lo so. Il dialetto è una cosa importante, Annabella, perché... Vinceva Falcone, le idee restano. Certo, ma la consapevolezza che è il noi che vince, non è opera di navigatori solitari. Lei sorride perché è felice? E un cristiano deve sorridere e far sorridere? Sì. L'amore per la libertà di una figlia può essere più grande dell'amore per la vita di una figlia. Come Chiara ha vissuto la cosa, ci ha reso quasi impossibile immaginare un scenario diverso. Veramente è un momento di grande disagio. Io dovrei tenerla qui ora perché soltanto gli accenni alle tematiche che lei ha fatto meriterebbero approfondimenti assolutamente necessari e che spesso la cronaca Day by Day non permette di fare. Allora, secondo me il miglior antidoto alla paura è fare frutti. Starei ora ad ascoltarti a questo punto, direi. Ti chiedo così a sorpresa una musica per chiudere. È una canzone bella, ritmica, sentita, molto sicura nel senso che c'è il ritmo e della voce di una donna. Grazie, grazie tantissimo, davvero. Grazie. Monica Mondo, ospite al sabato del convento. Buon pomeriggio, è un piacere averti qui con noi. Grazie. Grazie a voi, naturalmente. Sì, io non mi riguardo mai. Devo dire che è abbastanza curioso vedere tutte le persone e i nomi. Sono state occasioni di incontro veramente belle, inaspettate. È l'imprevisto che sempre ti stupisce, no? E che riesce a farti incontrare un pezzo di te, un pezzo di noi in ciascuno. Eh, non è stato facile scegliere, meglio creare questo mosaico perché... Complimenti, grazie, lo voglio. Grazie, grazie con piacere. Allora, io partirei da questo, Monica. Hai lavorato per case editrici, giornali, radio, televisione, ma la radio resta per te il mezzo migliore. Perché? Perché non hai bisogno di truccarti, di avere le pose, perché la parola è ciò che ci permette di andare incontro, no? Di esprimersi, di toccare il cuore, di toccare la mente, di suscitare reazioni. È anche più difficile, no? Con la parola rispetto all'immagine da cui ormai siamo sommersi. Per questo credo che oggi, in una realtà fatta di brevi messaggi in cui si storpia la lingua italiana o nella sovraesposizione dell'immagine, il recupero della parola che la radio permette e della lingua, naturalmente, sia un valore. Solo è un programma di incontri, quasi radiofonico, però in televisione si vedono gli sguardi. A questo conta. Sì, certo. È chiaro che se hai una persona di fronte, qualcuno si nasconde, naturalmente. Qualche volta magari sono io non proprio attenta. Però sulle domande importanti ti rendi conto se una persona è sincera o no. Ti rendi conto se ci sta a lasciarsi scoprire, ad andare fino in fondo appunto all'anima. E devo dire che questo, quando succede, è una grande ricchezza per me, di solito per la persona che è ospite, perché poi stiamo a chiacchierare un'ora dopo, di tutto e di più, e spero che qualche volta si colga. Chiacchierate dopo, ma è vero che non incontri mai gli ospiti prima? No, non mi posso fare... Cioè, sono due chiacchiere mentre fanno la prova delle luci, come ben saprete, ma in cui magari parlo di quello che ho letto sul giornale la mattina, insomma, di argomenti, ma non dico mai le domande e non voglio essere io a briefare prima la persona, perché altrimenti poi la curiosità mi viene meno. Io vado molto a reazione di curiosità, se sai già tutto. Chiaro, questo non significa non prepararsi, no? Me lo insegnerai, insomma, è chiaro che uno deve conoscere tutto quello che riesce a trovare di quella persona, però poi le domande vanno scelte a seconda della preeminenza che tu vuoi dare a un tema o a un altro, e conta tantissimo la risposta, perché è la risposta che suscita un'altra domanda. Non puoi averle già tutte preparate, altrimenti che incontro è, no? È vero. Tutto qua. È un po' così che solo in inglese significa, vuol dire, anima. Come si entra nell'anima delle persone? Perché tu in fondo, in fondo ci entri. Non lo so, io ti ringrazio, non vorrei neanche essere troppo intrusiva, non è il mio scopo. Ci sono dei temi che mi sono cari, e ci sono dei temi su cui sono certa tutti gli uomini hanno una domanda. Le domande sono quello che fondamentalmente abbiamo in comune, e visto che sono anche le mie domande, io le pongo in libertà. E di solito le risposte mi interessano, e credo che interessino a chi le ascolta, perché anche nella diversità di posizioni sono comunque vere, sono sincere, sono pensate. Le domande più importanti, beh, quella che faccio sempre perché è il segno dell'inquietudine più grande che io mi porto addosso, è quella sul dolore e sul male, no? Davanti, è inspiegabile, insomma, anche in chi ha la grazia di credere in Dio, è inspiegabile il dolore e il dolore innocente. E questo ci unisce, perché è inspiegabile per chi crede, è inspiegabile per chi non crede. E quindi che posizione umana possiamo avere per non mortificare la nostra vita in un cinismo tragico, no? Questo è uno degli argomenti che mi interessano di più. Poi sicuramente i legami, gli affetti familiari, senza appunto voler sapere troppo della persona, no? Ma di solito sapere dove sei nato, in che famiglia sei nato, che educazione hai avuto, scopre tanto di te. Ti permette di incontrare una persona che magari ha un ruolo importante, o un grandissima fonte di pensiero, però poi torna indietro bambina, o ragazzino, o giovane, e ci sono dei varchi in cui è possibile far entrare appunto pensieri diversi da quelli che dice magari tutti i giorni sui giornali o nei suoi libri. E poi come viene? Hai incontrato oltre 500 persone e personaggi. Non vi basate sul fatto che sia una persona famosa o meno famosa, però quello che andate a cercare è che abbiano qualcosa di vero da dire. Quindi non c'è gossip, non c'è sensazionalismo, ma appunto qualcosa di vero da cogliere nelle storie delle persone. Sì, ho avuto la fortuna di incontrare personaggi molto famosi, attori, penso, non lo so, anche personaggi dello spettacolo, a Pippo Baudo, a Flavio Insin, a Kim Lossi Stewart, l'avete fatto vedere voi prima, scrittori importanti, filosofi, uomini di potere, diremmo noi, no? In aziende grandi, importanti, però a me interessano come persone. E' chiaro, a partire dal ruolo che hanno, avranno una certa attenzione ad alcuni argomenti rispetto ad altri, avranno una certa storia che è importante raccontare, ma non mi interessa perché sono famosi, e soprattutto non mi interessa che vengano a proporre una loro opera, ok? Quindi non è perché chiamo uno scrittore perché ha fatto quel libro in uscita e la casa editrice me lo promuove, ma perché quello scrittore mi interessa, perché ha detto certe cose. Questo limita qualche volta la scelta, perché se tu vai dietro alle proposte day by day, hai più spunti, hai più persone che ti premono, però permette di incontrare anche un sacco di gente che non è affatto famosa e che invece ha delle storie pazzesche. Guarda, io lo dico sempre, le persone più strane e meravigliose che ho incontrato sono missionari, perché i missionari sono i veri supereroi dei nostri giorni. Dovrebbero fare una raccolta di figurine con i volti dei missionari e le loro storie. Sono testimoni di realtà lontanissime da noi, sono uomini coraggiosissimi che rischiano la vita, che sacrificano un sacco, ma ricevono un sacco, e dovrebbero essere degli esempi fantastici per i ragazzi, per i giovani, insomma, gente di grande cuore, e non di rado di grande esperienza, di grande professionalità e pensiero. Questo mi spinge a chiederti se ti capita di pensare, di considerare gli incontri che fai come a dei doni ricevuti. Questo sempre. Poi c'è qualcuno anche un po' noioso, o qualcuno un po' presuntuoso, qualcuno un po' vanitoso, che vedi che... Però, insomma, TV 2000 è una televisione particolare, per cui chi accetta di venire a TV 2000 e non è sponsorizzato a qualcuno, ma viene chiamato da noi, accetta qualche volta anche con ritrusia, perché alcuni dicono, no, ma io di me non voglio parlare. E io rispondo sempre, ma io non voglio sapere i fatti suoi. Io voglio che parliamo delle cose a cui tiene di più nella vita. E di solito questo succede. È chiaro che è una possibilità per me, perché io cerco negli altri le domande e qualche volta anche le risposte che io non riesco ad avere. Ci fermiamo qualche istante, e facciamo una brevissima pausa e poi ancora insieme con Monica Mondo. Grazie. Monica Mondo, ospita il sabato del convento di questa settimana, è una persona del passato che avresti voluto incontrare. Cesare Pavese. E che cosa gli avresti chiesto? Più che chiedergli, avrei cercato di dirgli che qualcuno gli poteva volere bene e che la vita è bella. Monica, sei cresciuta tra i libri, una laurea in lettere classiche, grande gusto per l'etimologia delle parole, un padre, Lorenzo, un marito, Franco, giornalisti. Nei tuoi incontri ho notato che sei molto asciutta nell'utilizzo delle parole, non le sciupi, è così? In realtà ero molto verbosa avendo imparato a lavorare in radio, per forza, bisognava riempire i tempi. Poi mi hanno insegnato, proprio un autore qui a TV 2000, che non perdevo niente, non perdevo immagini, non perdevo presenza. Se le parole riducevo, non sempre lo faccio, qualche volta interrompo anche gli ospiti perché mi viene proprio spontaneo. Però sì, le parole hanno un peso, hanno un valore, quindi sarebbe importante almeno tentare di usarle dando loro un significato. Sì, ho avuto la grande fortuna di crescere in un ambiente in cui appunto scrittori e giornalisti erano di casa. Oggi il mestiere del giornalista è uno dei più trascurati, negletti e apparentemente senza futuro. Però qualcuno che interroga la realtà, che la racconta e che cerca di interpretarla, ci vuole, ci vorrà sempre. Bisogna soltanto che la rete trovi il modo di farlo diventare un mestiere che possa rendere e mantenere una persona. Ma credo che questo sia un lavoro bellissimo, bellissimo. Noi abbiamo un bisogno di realtà pazzesca e invece continuiamo a vivere di finzione, di realtà virtuale e incontrare le persone e incontrare pezzi di realtà. È un po' come essere inviati speciali dentro il cuore della gente. Qualche anno fa è pubblicato per la San Paolo un libro Io Cristiana per amore e per ragione. Se avessi la fede come Francesco Filippo Neri o Teresa Dilusie mostrerei a tutti la felicità e sarei contagiosa, convincente e attrattiva. La fede è più un dono o un incontro per te, Monica? È un dono grazie alla mia famiglia ai nonni soprattutto che sono grandi trasmettitori di semplicità e di fede popolare che poi quando cresci sorridi di meno ridendoli e scopri che valore enorme ha perché senti nelle loro parole nei loro versi nelle loro preghiere ripetute la forza di decine centinaia migliaia di anni di persone che hanno ripetuto quelle preghiere e quei gesti inginocchiati nelle chiese sulle pietre delle cattedrali e questa è la forza di duemila anni di chiesa. E poi è un incontro perché perché appunto è un imprevisto bisogna dire sì tutti i giorni e quindi è un incontro io ho avuto la fortuna di incontrare dei sacerdoti che mi hanno che mi hanno fatto riscoprire che Gesù poteva essere una compagnia presente nella mia vita e poteva dare ad essa significato e questo e questo non lo dimentico mai anche quando i dubbi e i momenti di delusione di amarezza sono profondi per quello che succede nel mondo per le risposte che anche la chiesa non sa dare però però la fedeltà a quell'incontro io penso sempre a Giovanni no? Mutati smutati per carità però è andata così con gli apostoli hanno incontrato Gesù e Giovanni a 80 anni di distanza diceva era circa l'ora sesta ricordando il momento in cui cioè si ricordava l'ora precisa credo che questo sia fondamentale fare memoria di quello che ci è stato dato per grazia di ricevere anche nei momenti più difficili spero mi riesca ancora per un po' un'ultima domanda un'ultima curiosità Monica sei mai stata a San Giovanni Rotondo? sono stata a San Giovanni Rotondo tantissimi anni fa con un certo scetticismo che è lo stesso con cui approcciavo per esempio l'URD e poi pian piano uno si purifica crescendo cioè si rende conto che le possibilità di incontrare Dio sono tantissime che i santi sono diversi e che non c'è un santo che vale di più che vale di meno e che ciò che ti sembrava distante da te quando eri ragazzo scopri man mano studiando e conoscendo che è stato un dono immenso per tutta la chiesa e quindi anche per te per questo San Padre Pio sicuramente è un personaggio che avrei voluto incontrare avrei voluto conoscere senza chiedergli nulla perché non c'era bisogno di parole credo che lui sarebbe bastato guardarlo e sentirsi guardati ecco che bisogno abbiamo di essere guardati da persone che ci testimoniano Gesù Cristo perché sarebbe stato un po' come essere guardati da lui da Gesù gli apostoli hanno avuto una fortuna enorme e noi qualche volta diciamo magari essere stati come loro incrociati dallo sguardo di Cristo nelle strade di Palestina e probabilmente facendosi guardare da Padre Pio avremmo potuto fare quell'esperienza che bello quello che hai detto Monica grazie di cuore per essere stata con noi grazie a voi del vostro lavoro è reciproco insomma è stato davvero un grande piacere poterti incontrare grazie ancora Monica Mondo buon lavoro buon lavoro a voi grazie di tutto grazie a tutti